Come accade questo governo? Speriamo, perché questo governo è un danno per il Paese e la testardaggine di Berlusconi fa pagare l'Italia un prezzo molto elevato. Dovreste voi ricevere in mano un Paese in queste condizioni? Da dove ripartireste? Bisogna partire dalla necessità di rilanciare lo sviluppo e di valorizzare il lavoro. Il problema fondamentale di questo Paese è rimettersi in movimento, lo si potrà fare soltanto valorizzando il lavoro. Dopo il caso Penati avete un segretario più debole? No, abbiamo una vicenda seria che stiamo affrontando con serietà, con rispetto verso la magistratura e credo che anche di fronte a queste difficoltà Bersani ha dimostrato di essere un leader all'altezza dei problemi del Paese. Grazie. 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 Grazie.